4 territori del gusto, 20 cuochi, 22 produttori di vino e olio extravergine, 100 turni di visita e laboratorio, oltre 1500 partecipanti. Sono questi i numeri della seconda edizione di Cucine Aperte, l'evento organizzato da Tirso Media lo scorso weekend per il consorzio La Puglia e Servita. Una festa della gastronomia d'eccellenza in cui viaggiatori, gourmet, appassionati e semplici curiosi sono entrati in contatto diretto con gli alti standard qualitativi dei soci del consorzio, scoprendo la dimensione più autentica del mangiar bene. Il prodotto che abbiamo scelto è la barbabietola, abbiamo deciso di fare questo piatto che si chiama Deep Purple, un po' per onorare la musica rock e poi anche per evidenziare il colore porpora profondo della barbabietola. È un piatto fatto con dei crauti di cavolo rosso e finocchietto selvatico, dell'emulsione di barbabietola cotta sotto la cenere e poi delle fettine di barbabietola cruda che è stata messa a macerare con un aceto giapponese leggermente affumicato. Quindi un piatto fresco e probiotico, quindi anche salutare che è un po' la base della filosofia della nostra cucina.